o bentornati nella dare cizzo un altro video su amazon perché su come fare acquisti felici su amazon e non farsi fregare dalle recensioni farlocche ma non solo perché l'avevo già parlato con un altro video ma l'audio non era un granché quindi adesso il mio fido nuovo microfono si dovrebbe sentire meglio almeno lo spero fatemi sapere anche voi perché l'audio sempre il problema più grosso nei miei video perché dipende dal tipo di camera che utilizzo per gli unboxing utilizzo un tipo di camera per i vlog così opinioni ne utilizzo un'altra per registrare il gaming ne registra ne utilizzo un'altra ancora quindi i microfoni sono sempre diversi e a volte sorrogno cioè quasi sempre purtroppo l'audio un bel cassino però mi rendo conto anche vedendo i video mi rendo conto che un buon audio fa veramente la differenza qualche video non ce la fa davvero rivederlo e li faccio io nemmeno non ce la faccia rivedere video fatti da me perché l'audio non si sente niente figuriamoci perché se dovete avere voglia voi comunque speriamo vada tutto bene amazon allora facciamo un recap di quello avevo detto nel video precedente nel video precedente spiegavo come acquistare felicemente su amazon in maniera da non ritrovarsi in situazioni spiacevoli come quella dell'abuso dei resi che possono ora non ho trattato questo punto lo tratterò in questo video le ripercussioni che possono avvenire nel caso di un abuso dei resi che comunque in un comportamento onesto e legittimo non capiterà però è sempre bene pararsi in fondo schiena come si dice quando voi acquistate su amazon dovete guardare le recensioni positive e negative e fare un po una tara fra le due ma soprattutto dovete prestare estrema attenzione alle recensioni negative cioè quelle da una stella perché si sa che le persone che sono rimaste soddisfatte è più difficile chi è soddisfatto sta zitto è il silenzio della soddisfazione chi si lamenta di solito parla quindi chi dà una stella è facile che il prodotto veramente non l'abbia soddisfatto ed è utile conoscerne le motivazioni laddove le 5 stelle è un campo un po più complesso perché ci sono veramente quegli entusiasti che che esprimono la loro felicità certo faccio anch'io ho fatto tantissime recensioni da 5 stelle ma non scrivo dei papiri interminabili con 50 foto una più bella dell'altra insomma non faccio una vetrina che diventa invitante quasi per l'acquirente acquistare il prodotto di perché non è questo lo scopo del feedback non è assolutamente questo non è una recensione il feedback è un feedback loro scrivono scrive una recensione ma tu non fa una recensione fai un feedback perché sei un professionista che fa una recensione tu sei un utente che dà un consiglio un altro utente feedback funziona così o com'è quel telefono buono non fa schifo questo servono i feedback però appunto il concetto di recensione introduce meccaniche già più malevoli perché c'è purtroppo questo 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 tendenza sua totalmente a scapito di amazon a danno di amazon e del consumatore da parte delle aziende che vendono su amazon di acquistare recensioni positive da 5 stelle cioè funziona così l'azienda cerca tester per i prodotti se tu aderisci e vieni scelto il ottima andano direttamente il prodotto ma per avere il bollino acquisto su amazon che è più prestigioso ti invitano acqua ad acquistare il loro prodotto che loro stessi vendono su amazon e poi dopo il recensore viene rimborsato in varie maniere è una cosa che riguarda il recensore e l'azienda venditrice fuori fuori dall'ambito di amazon questo accade già si profila un comportamento non legittimo perché non si sta parlando quel recensore li verrà rimborsato esternamente da amazon del prodotto e il prodotto che acquista se lo tiene perché l'ha acquistato potrebbe addirittura fare un reso e quindi prendere anche i soldi dell'acquisto da amazon perché figuriamoci capita anche questo e quindi che succede che queste recensioni che sono state comprate a tutti gli effetti perché il coso il per avere il prodotto gratuito senza pagare niente viene richiesta una recensione 5 stelle positiva a prescindere dalla qualità del prodotto questo appunto non è più genuino il feedback perché l'utente farà comunque una recensione positiva anche se il prodotto ha una schifezza ora questo è difficile che capiti con prodotti costosi o relativamente costosi capita più nei prodotti economici tipo anche attrezzi per la doccia cose anche piccolissime però può capitare per qualsiasi prodotto che è una pratica che si fa purtroppo però ai danni di amazon e ad anni nostri ovviamente e se se poi l'utente perché lo so anch'io capita anche a me un po l'acquisto compulsivo non è che ci sarà tanta voglia di stare a valutare i più e i meno si vuole comprare qualcosa se guarda un po di feedback e poi si va se procede per l'acquisto sapendo comunque che ci si può appoggiare al reso perché lo so fatto anch'io però ultimamente ho cambiato un po l'atteggiamento perché non voglio neanche io alimentare più del dovuto il meccanismo un po perverso dei resi perché anch'io faccio i resi anche voi dovete farli è un nostro diritto da acquirenti ed è giusto sfruttarlo ci spetta di diritto il servizio che ci viene dato fantastico che solo amazon fa questo non è un video sponsorizzato da amazon cioè io non è questo non faccio gli interessi di amazon di fare i miei voglio fare i vostri perché io che sono comunque o il link affiliati amazon quindi se vuoi acquistare su amazon a me mi interessa molto però dovete acquistare i prodotti che volete voi non che vi vengono imposti e quindi è quello il discorso anch'io ho fatto resi perché io sono esigente con i prodotti se faccio tutti i controlli del caso prima da acquistare ma se il prodotto non mi soddisfa e questo capita nove su dieci perché può capitare il prodotto difettoso ma è raro molto raro però mi è capitato anche prodotti difettosi ma il più delle volte che non mi soddisfano io sono esigente non hanno risposto alle mie esigenze e quindi ho fatto il reso come è successo altre volte che mi è capitato un prodotto a palesemente aperto perché si riconoscono si riconosce non è andato troppo lungo ma mi sa che ci andrò si riconosce un prodotto aperto perché tipo i cavetti non possono essere riavvolti come quelle di fabbrica impossibile io li sgamo non puoi rimettere nel cello fan di fabbrica perdi quell'odore di plastica quando apre il prodotto sono tutte cose se ne accorge immediatamente quindi anche a me è capitato prodotti aperti ma me li sono tenuti perché prodotti funzionavano mi erano soddisfacenti per le mie esigenze li ottenuti non sono funzionavano non è che fossero però se avessi fatto un po più il pignolo l'avrei potuti considerare di seconda mano avrei potuto esigere tipo uno sconto ora bisogna considerare che tutti questi prodotti che i resi che facciamo e non possono essere buttati nella spazzatura devono essere rivenduti perché se non sono danni grossi per l'azienda perché il prodotto reso va a costare circa 20 euro all'azienda che l'ha venduta non sono pochi in più ci sono i costi di spedizione che sono totalmente a carico di chi te l'ha venduto di amazon amazon ti chiede i costi di spedizione per il reso ti manda il corriere a casa a costo zero e le spese di spedizione se le subbarcano loro questo se ovviamente tu restituisci nell'arco di un mese tu hai 30 giorni per valutare il prodotto al trentunesimo giorno ciao però per questi 30 giorni che sono lunghi per 30 giorni tu puoi anche valutare e restituire il prodotto se non se non ti soddisfa però i costi i costi si deve subbarcare amazon oppure guardate anche questa cosa vi perché ne volevo approfittare per chiarire anche questo punto perché non tutti lo hanno chiaro quando acquistate su amazon potete vedere tre soluzioni ed è non è scritto grandissimo perché probabilmente non non è che ci sia tutta sta voglia di farvelo sapere insomma se per legge lo devono dire lo dicono però è abbastanza piccola andata a leggere e non è mai in prima subito la prima cosa che vedete scorrete la pagina fino a che vedrete un testo più piccolo che riporta venduto e spedito da amazon in questo caso amazon gestisce completamente prodotto lo hanno i magazzini lo vende lei e si sobbarcherà tutte le spese e l'assistenza farà tutto lei se no può capire potete leggere venduto da hicks e spedito da amazon in quel caso hicks e amazon hanno preso degli accordi che noi non sappiamo hicks venditore esterno che usufruisce di amazon per avere ampia visibilità non sappiamo i suoi accordi i loro accordi però sappiamo che hicks ha dato i prodotti ad amazon i suoi prodotti li ha dati ad amazon e da amazon li ha già nel suo magazzino questo per sveltire tutte le procedure di spedizione e vendita quindi amazon ha già i prodotti di hicks quando io li vado acquistare me li spedisce subito così rientriamo nelle 24 ore del prime tutti contenti e per te a livello così di percezione attesa e ti sembrerà che te l'abbia venduto amazon è stata era venduto hicks ed amazon si è occupata della logistica se tu fai un reso di questo prodotto hicks dovrà rifarsela con amazon e questi 20 euro li dovrà pagare hicks probabilmente anche la spedizione non so dipende dagli accordi ma non saranno molto contenti quello senza altro questo non è che dovete far venire senza di colpa no perché il servizio è quello se non lo danno ma se decidono di darlo è giusto quando c'è da utilizzarlo giusto utilizzarlo però così se con un maggiore consapevolezza controllando facendo una tara fra i feedback positivi e negativi e leggendo con attenzione quelli negativi e leggendo cosa dicono perché non è detto che rappresentino la verità un feedback negativo non è detto può darsi il prodotto sia difettoso che l'utente abbia equivocato possono essere tante cose però solitamente nei feedback negativi molti scendono nel dettaglio e sono anche dettagli credibili quindi leggetele con attenzione lo so che non fa piacere legge una recensione da una stella sul prodotto che vogliamo acquistare ma quella ci apre veramente le porte della conoscenza comunque ci dà veramente un riferimento una via in questa giungla degli acquisti quindi leggetele con attenzione prima di arrivare al fatidico clic possono esserci anche le recensioni da una stella pilotate ma è difficile perché le meccaniche sono quelle sono le recensioni a 5 stelle che attirano l'attenzione degli utenti ma soprattutto tengano alto il prodotto nell'amazon choice e tutte le classifiche interne di amazon di riferimento di apprezzamento quindi le valutazioni a 5 stelle tengono il prodotto amazon quindi è molto molto difficile che si acquistino recensione da una stella probabilmente per per danneggiare ma non so sono più strategie che si utilizzano stico su tripadvisor potremmo fare anche un video su tripadvisor perché anche lì ci sono meccaniche interessanti e quella un po più così su amazon le aziende acquistano recensione da 5 stelle quindi state attenti cercate di essere coscienziosi fate molta attenzione in maniera da non abusare del servizio dei rischi perché ripeto non accadrà mai perché accadrà a chi fa il furbo non agli utenti onesti però comunque amazon ha sempre si riserva sempre il la facoltà di bloccare gli account che ritieni non sospetti comunque con attività non regolari e non sarebbe non sarebbe affatto simpatico entrare in questo questo tipo di controlli perché tutti i vostri acquisti sono monitorati è chiaro perché bisogna capire distinguere se si è un buon o un cattivo cliente questo tutte le aziende lo fanno quindi valuteranno tutti gli acquisti che avete fatto tutti i resi che avete fatto a un certo punto ci sarà una valutazione quindi cerchiamo di di non metterci in una situazione in cui potremmo incorrere in queste situazioni in cui si rischia di fare troppi resi perché non si sa mai solo un discorso di di agire e porsi in massima sicurezza quindi non vi spaventate continuate ad acquistare continuate a fare resi però in maniera coscienziosa intelligente senza far scattare gli abusi e questo lo potete fare valutando le recensioni negative di un articolo perché quelle lì veramente vi apriranno gli occhi fatemi sapere a cosa ne pensate come al solito sono andato lunghissimo e niente nel frattempo vi saluto e finisco il mio drink ciao ciao